bene cari scooteristi della madonna allora il nostro blocco l'abbiamo chiuso e oggi andiamo a montare finalmente il nostro stage 6 mk2 in alluminio racing eccetera 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 abbiamo già provveduto a pulire tutto per bene il nostro pistone lucidato il nostro cilindro lavorato la nostra testa lucidata ma che bella che è poi ci siamo procurati giustamente una gabbietta a rulli argentata in questo caso nuova di pacca guarnizione anche lei messa a posto seiger nuovi ovvio nuovi e siamo pronti per andare a montare il tutto già messo anche la guarnizione che questa basta infilarla andiamo a montare il nostro gruppo termico finalmente cosa ci serve oltre componenti ci serve semplicemente dell'olio miscela per lubrificare il pistone in modo da non metterlo dentro asciutto la chiave con i nostri bulloni per fissare il tutto e siamo pronti a mani pulite ora provvedo state calmi allora prima cosa da fare secondo me mettere subito un seiger o da una parte o dall'altra indifferente io per comodità lo metterò allora così io sono destro quindi metto il sinistro andiamo subito a mettere il seiger così una volta dentro non ce ne dobbiamo più preoccupare bello in sede si proviamo a farlo girare ogni volta che metto un seiger mi viene in mente il mio amico ferrarista bella fra allora fascia l'abbiamo già messa abbiamo controllato il verso in questo caso girarla da una parte o dall'altra è uguale perché è piatta non ha il gradino che la guida poi mettiamo su la nostra guarnizione per cominciare io adesso monto tutto a secco perché poi controllerò lo squish per vedere se c'è da fare qualche cambiamento però poi io per scrupolo un filino appena 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 di pasta rossa io gliela metto sempre sul sulle guarnizioni anche sulla testa un pelo gliela metto sempre giusto per evitare che magari ci possa essere qualcosa che che non va quindi nel dubbio mi tolgo il dubbio gabbia rulli olio come se ce lo regalassero mi raccomando non le mosinate su questa cosa gliela mettiamo dentro per bene si poi ragazzi mani pulite carta come se piovesse chiuso la carta quando faccio sti lavori che se è soltanto un goccio d'olio che cosa certo se c'ho le mani crocche no ma se solo un goccio d'olio che cosa come in questi casi io uso la carta allora goccio d'olio sullo spinotto questo qua appena appena giusto per lubrificarlo per farlo scorrere poi di nuovo carta pistone freccia in direzione dello scarico quindi in questo caso in giù andiamo a infilare il nostro il nostro spinotto la e adesso andiamo a tastoni a cercare la nostra gabbia rulli beccata spingiamo dentro bene attenzione appoggiare il pistone sui prigionieri che c'ha sulla fascia non rischiate di spaccarla poi seiger sarebbe meglio tapparlo qua evitare che cade dentro qualcosa però anche se cade in questo caso lo ribalto e vede fuori poi di solito mi va tra virgolette di culo magari stavolta in diretta mi cade dentro la vediamo se gira controllate sempre fate una cosa trovate un cacciavite che riesca appoggiarsi allo spinotto ma che non vada a toccare il seiger provate a spingere facendolo girare provate a spingere in direzione del seiger in modo da vedere se per caso salta fuori questo l'ho imparato a mie spese perché una volta mi è saltato fuori un seiger che non erano questi qua a g che mi piacciono ma erano questi questi qua a c non a g che quelli a g sono dove sono quelli vecchi quelli a g sono spariti vabbè quelli a g sono quelli che hanno la virgoletta come questi che hanno lo spuntoncino per appunto per prenderli con la pinza e cacciarli dentro quelle lì a c una volta mi è successo un patatrack e vabbè pazienza guarnizione l'abbiamo messa goccino di olio sul ditino minchia me lo regalano non è vero andiamo a lubrificare la canna sia da una parte che dall'altra ci ripuliamo le mani giusto per non lasciare troppo olio sul sull'esterno del cilindro perché quando comincia a scaldarsi poi fuma e dite aiuto invece no posizioniamo la fascia dove c'è il pallino di fermo in questo caso è in mezzo all'aspirazione puntiamo delicatamente puntiamo il cilindro dritto puntiamo il cilindro sul pistone stringiamo le fasce dai lati dove c'è l'apertura dei travasi e quindi cerchiamo di farlo entrare per benino e anche dritto possibilmente piano piano mi raccomando state attenti eccolo lì voilà giro di controllo propiziatorio non si sa mai ok così intanto facciamo uscire un po' d'olio dalla camicia anche perché ovviamente l'olio che gli mettete per lubrificarlo è tantissimo in caso quando lo andate accenderlo magari vi imbratta un po' la candela e rompe un po' le balle poi altra carta stessa cosa sul pistone ok la guarnizione l'abbiamo già messa andiamo a montarlo semplicemente e andiamo a mettere i suoi dadi io in questo caso gli metto sotto anche le rondelle ok in questo caso stavo dicendo non sbagliato in questo caso non metto le rondelle le grover perché a parte che le sedi di questo cilindro in alluminio sono molto fatte bene quindi non ce n'è bisogno ma anche perché c'è poco filetto che esce perché la testa è molto spessa per una questione di raffreddamento e quindi sta fuori poco filetto quindi non voglio rischiare di aggiungere una una rondella che tra virgolette quasi non servirebbe io la metto per mia per mia premura però non è necessaria lo so però io di solito le metto stavolta non serve so che va bene anche senza quindi si può anche scusare senza quindi adesso andiamo a puntare su le nostre viti belle tranquille e serene così a muzzo diciamo tra virgolette sempre tra molte virgolette fate attenzione e adesso cominciamo a stringere stringere quanto? allora con la chiave dinamometrica sono tra i 9 e gli 11 newton metri a mano è meglio stare attenti perché soprattutto sull'alluminio bisogna fare attenzione quindi io consiglio di stringerlo appena appena sempre incrociandolo nel senso stringete appena appena questa 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 e questa poi stringete un po' di più questa 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 e questa poi un po' di più questa 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 sempre incrociando perché va a stendere diciamo va a siete sicuri di stringere in piano tutto tutta la testa in modo che non ci siano perdite tra filaggi deformazioni cazzi vari e via ora fatto questo il nostro gruppo termico facciamo finta di averlo stretto il nostro gruppo termico sarebbe pronto io adesso non lo stringo tutto bene perché se no io adesso dovrò andare a controllare lo squish non so se va bene è alto è basso eccetera eccetera quindi cosa faccio l'ho puntata appena appena e basta ora andrò a controllare lo squish e saremo pronti poi per montaggio accensione e quant'altro bene ragazzi se vi è piaciuto il video pollice su iscrivetevi lasciate un commento se vi va attivate la campanella delle notifiche così quando carico il video vi arriva subito la notifica per l'appunto e via ragazzi buon gruppo termico a tutti grazie